Ciao a tutti! Oggi siamo a Sanle Marasino sul lago di Iseo. Qui si possono fare delle bellissime passeggiate. Inoltre davanti a noi c'è anche Montisola. Quindi passiamo alla visione del video dove vedremo parte del lungolago, Montisola davanti a noi e altri scorsi caratteristici. Ricordati come sempre di iscriverti al nostro canale se non l'hai già fatto, di mettere un like e un commento qui sotto. Ciao! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!